La Delegazione di Donne della Comunità, l'associazione per la lotta ai comori del centro, e quanti hanno preso parte all'iniziativa per la vita svoltasi questa mattina a voi. E' importante collaborare insieme per difendere e promuovere la vita. Parlando di vita, oggi in tanti paesi si celebra la festa della mamma. Grazie!